Preparo i filetti legandoli con lo spago in modo da dare una forma bella rotonda. Li infarino generosamente da tutti i lati e li rosolo in padella con un pochettino di burro. Rosolo bene da entrambi i lati. A questo punto inserisco il pepe verde mescolato dalla sua salanoia, sfumo con il porto e completo con la panna. Faccio insaporire tutto leggermente senza far bollire troppo per evitare che la panna si asciughi troppo sulla piatta. Impiatto con funghi, con patate o quello che si vuole, in questo caso ho scelto dei funghi spadellati con del rosmarino. Adagio sopra il filetto e il salso con la salsa al pepe verde.